eeeh mi vuoi aiutare? no! aspetta no ahiaa Sam eeeh l'essere che sta dentro le fornaci quanto si diverte a starci? no, direi bella al manzo del cammino si è questa, e si tiro fuori ti do non ciarvi rendi se tu me prendi non riesci a prendermi sei fortunato come breve trovo che ho visto vero di merda tu sai tu è lì sai dove sembra quindi non precisamente però so dovrei aver visto la strada dal contratto sì diciamo che guarda dove indico e immagino guarda dove di cui dici la e come c'era intorno vedi vedi